Ok ragazzi, oggi vi porto questo video news che vi farà saltare dalla sedia perché sì, non è un clickbait, avete letto bene il titolo è attualmente in produzione un film live action e quindi con persone vere, attori in carne ed ossa di My Hero Academia eh sì, a quanto pare è proprio questo che fa il successo da quel che si è capito però non si tratterà di un film live action giapponese ma di qualcosa di americano barra giapponese è prodotto dallo studio Legendary Pictures e sì, purtroppo appena penso ad un film live action americano basato su un anime manga purtroppo mi viene ancora in mente quel Death Note ma per questo film c'è qualcosa che può farci un attimino calmare infatti il progetto vede coinvolti Alex Garcia e J.I.A. Schenfelter che supervisioneranno i lavori vabbè, ma avremo anche un certo Ryosuke Yoritomi che coordinerà il film per conto della Shueisha editore di My Hero Academia e quindi questo significa che verrà comunque prodotto anche e forse soprattutto dai giapponesi al momento non sappiamo ancora nulla sull'uscita sul cast o quant'altro e quindi dobbiamo solamente aspettare sinceramente non so bene cosa aspettarmi da un film live action su My Hero Academia infatti mi fa davvero strano anche solo immaginarlo però staremo a vedere detto ciò spero che questo video news vi sia piaciuto e nel caso vi do lasciare un like iscriviti se ancora non l'avete fatto seguitevi su Instagram in descrizione e noi ci vediamo in un prossimo video e noi ci vediamo in un prossimo video e noi ci vediamo in un prossimo video